ben ritrovati spettatori di le fonti tv per questo appuntamento speciale come potete leggere nella titolo della nostra trasmissione parleremo di investimenti di tecnologia e di avanguardia lo faremo con l'ospite che ci ha raggiunto qui in studio ovvero il dottor Antonio Perotti head of branch Italy forward you life insurance lux a cui naturalmente do il benvenuto benvenuto dottor Perotti grazie per essere qui con noi grazie a voi ben ritrovati bene dottor Perotti noi ci troviamo in un contesto molto particolare un contesto molto difficile da gestire perché ci sono diversi fattori con cui dobbiamo insomma fare i conti ovvero la fine la coda speriamo della pandemia di covid naturalmente la guerra in Ucraina e poi l'innalzamento dei tassi di interesse la crisi energetica ecco la prima domanda che le faccio è questa quali sono le strategie che gli investitori hanno a disposizione per far fronte a uno scenario così complesso quello che ha raccontato sembra una tempesta perfetta no ha citato esattamente tutti gli elementi possibili che in qualche modo sarebbero treprecabili rispetto ad uno scenario di investimento il tema è capire bene qual è l'esigenza dell'investitore perché in funzione di qual è l'esigenza poi si modula anche quella che è la soluzione diciamo che mediamente se confrontiamo un investimento in nell'azionario e lo confrontiamo con quello in obbligazionario notiamo che nel lungo periodo comunque nel medio periodo parliamo almeno di un orizzonte di 20 anni le performance dell'azionario sono comunque mediamente superiori rispetto a quelle dell'obbligazionario giusto per dare qualche numero mediamente negli ultimi 20 anni si è misurato un rendimento medio anno di circa il 7 per cento per l'azionario a fronte in realtà di un rendimento medio annuale di poco meno del 5 per cento sull'obbligazionario quindi questo vuol dire che l'investitore con un orizzonte di medio lungo periodo ha sicuramente avuto maggiori soddisfazioni investendo in azionario che in obbligazionario qual è lo spettro però che bisogna affrontare quello della volatilità che è il problema fondamentale di questi giorni quindi il mercato che oscilla in maniera estremamente consistente talvolta addirittura da un giorno all'altro o comunque da settimana all'altra e questo tipo di fenomeno comporta o porta nell'investitore un senso di sconforto che evidentemente poi può impattare in maniera negativa su quello che è il rendimento dell'investimento quindi qual è la soluzione a questo beh la soluzione a questo è innanzitutto decidere qual è l'appetito al rischio valutare quello che è l'appetito al rischio dell'investitore e in funzione di questo affidarsi a delle soluzioni che rimodulino l'investimento in termini di portafoglio a seconda di quello che è il contesto nel caso specifico di FW noi consigliamo ai nostri investitori o comunque proponiamo ai nostri investitori in maniera anche automatica perché utilizziamo la nostra tecnologia per far questo una rimodulazione del portafoglio in modo tale da investire, disinvestire e investire conseguentemente su titoli che hanno delle caratteristiche talvolta maggiormente difensive talvolta un po' più come dire aggressive in termini di rendimento sui mercati proprio per cercare di mitigare quello che è l'effetto volatilità e massimizzare il rendimento del portafoglio ecco lei ha citato insomma un termine che proprio sta caratterizzando i mercati in questo periodo ovvero la volatilità però ha citato anche contemporaneamente l'antidoto a questo problema ovvero la tecnologia l'utilizzo ad esempio dell'intelligenza artificiale che sta coinvolgendo un po' tutti i settori e naturalmente deve investire anche il settore finanziario assicurativo come può la tecnologia secondo lei ecco essere uno strumento che aiuti gli investitori? uno diciamo degli aspetti più caratterizzanti nel nostro nel momento attuale è un'amplissima disponibilità di scelta da parte dell'investitore ormai è facile ed è possibile investire su aree geografiche le più diversificate su settori che sono i più diversi possibili su anche tipologie di investimenti si va dalle criptovalute fino all'investimento più tradizionale sulle materie prime o addirittura sul mattone quindi la bravura dell'investitore e ovviamente di noi che supportiamo l'investitore a massimizzare i rendimenti dei suoi investimenti deve essere quello di cogliere tutte le opportunità possibili offerte dallo spettro dei sottostanti disponibili sul mercato ed è chiaro che questo all'aumentare della numerosità degli strumenti finanziari diventa sempre più complicato farlo con una singola intelligenza umana che ovviamente ha un set informativo limitato, ha una disponibilità di tempo che risulta essere limitata e ovviamente è pesantemente condizionata dalla componente emotiva che soprattutto in periodi come quello che stiamo vivendo può comportare degli impatti negativi quindi la disponibilità di un impianto tecnologico robusto che fa anche utilizzo dell'intelligenza artificiale consente di razionalizzare il set di informazioni che si possono recuperare direi in realtà sull'intero patrimonio informativo disponibile sul web per esempio. Noi come Forward You abbiamo implementato un meccanismo che abbiamo denominato sentiment analysis che è di fatto uno strumento che consente di recuperare dal web e da altre fonti tutte le informazioni che riguardano le potenziali aziende sulle quali vogliamo investire e andare ad estrapolare in maniera razionalizzata quello che è un po' il sentiment che si sta sviluppando relativamente a quell'azienda e quindi ad attribuire a quel tipo di azienda e quindi a relativi titoli o a relativi applicazioni una sorta di rating che poi ci consentirà di definire o di scegliere le aziende sulle quali investire. Allo stesso modo la nostra piattaforma consente di esplorare fino a 400.000 possibili potenziali strumenti un numero talmente spropositato che ovviamente non sarebbe gestibile da un essere umano che quindi con una capacità analitica di tale profondità e ultimo e non ultimo c'è anche la tempestività quindi il motore reagisce in maniera tempestiva agli stimoli all'andamento del mercato cosa che ovviamente richiederebbe al singolo investitore o ovviamente di essere 24 ore per 7 lì a guardare il proprio investimento oppure ovviamente affidarsi a degli investitori che comunque poi sconterebbero quelli che sono i limiti di una persona e quindi comunque torneremo ai problemi che dicevamo prima. Certo. Lei ha parlato ecco di numeri e della realtà in particolar modo di Forward You e a proposito di numeri voi avete raggiunto un bacino di clienti impressionante perché si parla di un milione di clienti in tutto il mondo però al contempo avete mantenuto anche una dimensione familiare della vostra impresa e appunto la dimensione familiare è una delle parole chiave della vostra realtà insieme a tecnologia, insieme ad avanguardia che abbiamo citato appunto all'inizio della nostra puntata ecco come questi elementi si integrano poi per dare appunto al cliente una soluzione personalizzata che si adatti alle sue esigenze? Ha toccato giustamente i tre pilastri fondamentali, i nostri core value quindi l'aspetto di familiarità, siamo un'azienda che nasce come un'azienda familiare con una forte matrice imprenditoriale, l'aspetto di avanguardia abbiamo sempre avuto come dire molto coraggio nel sperimentare nell'essere un po' come dire un passo avanti alla frontiera per quello che riguarda l'offerta, per quanto riguarda tutta la parte di ingegneria di prodotto e ultima ma un'ultima che è un po' il collante anche delle altre due è l'aspetto tecnologico. Come dice giustamente lei questi tre elementi combinati ci danno la possibilità di offrire al cliente ovviamente quel qualcosa in più rispetto al semplice prodotto che ormai al giorno d'oggi è dato un po' per dato, per assodato la qualità del prodotto è qualcosa che i clienti considera quasi come un default quello che l'azienda mette a un top è l'eccellenza del servizio non cito realtà esempi che ormai sono sotto gli occhi di tutti relativamente addirittura ad una mancanza di prodotto dell'azienda ma tutto fondato sul servizio e questo è un po' l'elemento che ci contraddistingue quindi eccellenza nell'ambito del prodotto supportata però in eccellenza in termini di qualità del servizio che riusciamo a ottenere in che modo? garantendo una prossimità ai nostri distributori e ai nostri clienti che è quello che viene un po' dalla nostra matrice familiare che però con numeri così importanti come diceva lei non può prescindere dall'utilizzo estensivo della tecnologia a partire dal mondo degli investimenti ma che si estende ovviamente a tutta la filiera di produzione e che parte dal primo contatto con il nostro cliente che va poi alla fase di interazione post vendita con i nostri clienti e così via fino alla fase ultima ovviamente che è quella di chiusura della relazione e tutto questo viene gestito con un supporto che è garantito dalle nostre persone che comunque rappresentano anzi che rappresentano l'asset fondamentale della nostra azienda quindi quello strategico che però ovviamente non può prescindere dall'aspetto tecnologico quindi anche le nostre persone in back office si utilizzano in maniera estensiva la tecnologia per erogare questo servizio di eccellenza nei confronti dei nostri clienti chiarissimo insomma questa integrazione tra aspetto umano ed aspetto digitale e tecnologico che ormai è diventato fondamentale Dottor Perotti io la ringrazio molto per averci insomma raccontato la vostra realtà quella di Forward You e averci aiutato anche ad avere un maggiore orientamento appunto nell'ambito degli investimenti in questo periodo così complesso come abbiamo detto ad inizio puntata caratterizzato appunto da incertezza e volatilità grazie ancora per essere stato qui nostro ospite grazie a voi grazie mille bene si conclude qui questo speciale approfondimento targato Forward You io naturalmente vi do appuntamento alla prossima puntata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti